Andiamo avanti ancora, dalla Repubblica del 12 luglio 1998, dall'assarcimento miliardario per i chierici violentati, voi mettete la firma sul 740 per la Chiesa Cattolica, dati i soldi alla Chiesa Cattolica, siete responsabili degli stupri che fanno i cattolici nei confronti di chi non si può difendere. La Chiesa Cattolica di Dallas pagherà 23 milioni di dollari, 39 miliardi di lire, come risarcimento a otto ex chierici che subirono gli abusi sessuali di un prete. E' una somma più alta che la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti dovrà pagare in un caso del genere. Ma avrebbe potuto essere ancora più importante, l'anno scorso un tribunale della città texana ordinò un risarcimento ancora più alto, 119 milioni di dollari. Ma alla fine la diocesi è riuscita a raggiungere un accordo con le parti per un importo minore, affermando che in caso contrario sarebbe arrivata alla banca rotta. Bene, i soldi che voi date qui in Italia e a Chiesa Cattolica andranno a finanziare queste cose. L'accordo, che è una bruttissima storia, alcuni chirichetti hanno subito gli abusi sessuali da padre Rudolf Koss, fin dall'età di nove anni e uno di loro si è suicidato. Il racconto dei ragazzi riportato dai giornali ha sconvolto il paese provocando una massiccia mobilitazione contro padre Koss. Il sacerdote responsabile è stato spretato dal Vaticano e ora è in carcere dove sta scontando una condanna all'argastolo. Ma anche la diocesi di Dallas e su guai, l'accordo economico, le costringerà a vendere alcune sue proprietà per pagare il risarcimento. La chiesa, cioè la parrocchia, è stata condannata a pagare il risarcimento perché gli abusi sessuali commessi da Koss sono proseguiti nell'arco di 11 anni e il prete è stato esonerato dai suoi doveri pastorali solo nel 92, anni dopo che altri preti, i suoi collaboratori, avevano denunciato il suo comportamento alle autorità ecclesiastiche. In pratica l'intera struttura ecclesiastica è stata chiamata a rispondere ai comportamenti di Koss perché ha protetto Koss, cioè ha protetto la sua attività di stupratore di bambini, l'intera chiesa cattolica ha protetto l'attività di stupratore di Koss. Il problema delle molestie sessuali da parte dei sacerdoti è particolarmente scottante negli Stati Uniti dove oltre 200 preti, riferisce il Washington Post, hanno scontato pene detentive per simili vicende a partire dagli anni 80, 200 preti sono stati scoperti, metti un altrettanti non scoperti, fate un po' voi cosa stanno combinando. Oltretutto tenete presente che le operazioni di condizionamento educazionale messe in essere per distruggere il divenire umano da parte della chiesa cattolica non hanno effetti immediati. Cioè voi non trovate domani mattina la risposta a queste azioni, voi la risposta a queste azioni le trovate fra 20 anni, fra 30 anni. Per cui non si saprà più come mettere in collegamento la distruzione del sistema sociale che si provocherà fra 30 anni, le necessità di adattamento al sistema sociale con tutta la violenza che ciò comporterà, con i fatti che sono avvenuti oggi, che verranno domani o che sono avvenuti l'altro ieri. Per cui queste relazioni tenderanno praticamente a sparire e allora ecco che il pazzo di Nazare dice non è quello che da fuori viene fatto a voi che vi danneggia, ma è quello che da voi esce fuori che vi danneggia. Cioè non è cos che vi ha stuprato, che vi ha danneggiato, ma è la vostra malvagità. Attenzione ai ragionamenti. I ragionamenti sono sottili, ma servono per distruggere il divenire umano. Andiamo avanti ancora, va? Dal Gazzettino del 12-7-1998. Voci di traffico d'organi di bambini in Albania. Beh, dall'articolo non si deduce che si siano voci di traffico d'organi di bambini. Sono frequenti in Albania casi di sparizione di bambini che vengono poi utilizzati in vari paesi europei sui mercati dell'accattonaggio e della prostituzione. Ricordiamoci questo. Perché è stato distrutto il sistema sociale albanese? Per poter vendere sul mercato occidentale manodopera sotto costo, manodopera per la malavita, prostituzione e bambini da prostituire. Bambini per spacciare eroina. Bene, la stessa cosa è quella che vuole fare il Dalai Lama per il Tibet. La stessa cosa è stata fatta da Voitila per tutta l'est Europa e le stesse cose saranno per essere fatte, tipo i taleban per esempio in Afghanistan, tipo quello che vorrebbe fare il FIS in Algeria. Tutti i monoteisti, tutte le regioni monoteiste stanno andando in questa direzione perché devono riuscire a distruggere in qualunque modo ogni pensiero di libertà che si costruisce negli esseri umani. Per cui quello che i monoteisti stanno preparando è qualcosa di talmente atroce, talmente aberrante che bisogna effettivamente lavorare per salvare il sistema costituzionale che abbiamo nella sua realtà, nella sua oggettività. perché stiamo davanti a un qualcosa di veramente atroce. E una cosa che si riproduce dopo 30 anni, ho detto corsa, violenta i ragazzini, dopodiché le cose sul sistema sociale si ripercuotono fra 20 anni. Bene, dal gazzettino del 13 luglio 1998, purificatevi, il padre tiene nude tre bimbe sul balcone. Ha costretto le figlie, due gemelle di un anno e una bimba di 7, a sedersi nude al sole per quattro ore sul balcone di casa del primo piano e in preda a una crisi mistica, vestito coi soli slip, ha cominciato a cospargerle d'acqua per purificare la famiglia. è accaduto il rimattino da un piccolo condominio di Bussetto, protagonista di un ex bianchino di 37 anni che da un paio d'anni si dichiara pranoterapeuta, anche la moglie condivide il suo fanatismo religioso. L'uomo che sostiene anche di avere visioni e definisce stimmate alcune ferite che si è provocato, ha sfasciato pure l'aredo di casa. Questa e le stimmate di padre Pio sono esattamente la stessa cosa. Questo comportamento di quest'uomo che tiene le bambine nude sul balcone sono gli stessi comportamenti che ha padre Pio. Perché sono diversi? Sono diversi dal punto di vista sociale. Per la forza che le muove, la forza di sottomissione, la forza dell'orrore che devono produrre questo tipo di aberrazioni mentali sono esattamente la stessa e identica cosa. L'obiettivo primo è distruggere il divenire umano, distruggere gli esseri umani, costringere gli esseri umani in ginocchio, costringere gli esseri umani a non prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Questo è il discorso. Ora, questo è andato fuori di testa in questo modo. Il suo fuori di testa è ovvio, è pacifico. Intervengono i vigili, interviene anche il parroco per fermarlo chiaramente perché anche per lui questo è un danno. E appare pacifico che questo è andato fuori di testa nella sua visione mistica, nella sua visione paranoica. Quello di padre Pio è meno ovvio, meno appare meno. Sembrerebbe che in pubblico almeno non abbia denundato bambine. Altri lo fanno ultimamente. Da Bologna mi si riferisce a questa pratica, alcune sette cattoliche che la stanno facendo. Comunque, padre Pio non fa questo. Però padre Pio mette in ginocchio le persone. Dice persone pregate. Dice persone io vi salverò. Praticamente va a distruggere la capacità delle persone di prendersi nelle loro mani la responsabilità della propria vita. E questa è la stessa pazzia. Cioè, questo pazzo e padre Pio hanno la stessa cosa. distruggere gli esseri umani. E questi sono effetti dell'educazione precedente. Cioè, di quello che è avvenuto trent'anni prima o di quello che non è avvenuto trent'anni prima. Passiamo a un argomento un po' più divertente e piacevole. da Corriere della Sera dell'11 luglio 1998 c'è la recensione di un libro Amazoni di Vanna De Angelis, editrice PM. Bene, dice questo articolo. Erodoto aveva ragioni. Le Amazoni sono esistite. Allora, a parte le ricerche che sono state fatte e le tombe trovate, dice, non notando la città di Pokrovska, vicino al confine Kazakistan, una campagna di scavo ha portato alla luce negli ultimi quattro anni un gruppo di 50 kurgan, in russo Tumuri, del VI secolo a.C., al cui interno sono stati ritrovati dei corredi funerari sorprendenti. Abitualmente il corredo funerario femminile è composto da bambole, specchi, gioielli, oggetti da toalette simili. Le armi, invece, questi kurgan hanno trovato le armi, cioè le armi erano appannaggio maschile, anche nelle sepolture, ma nei kurgan, scavati nelle steppe eurasiche, molte donne erano state sepolte accanto a delle armi. Il ritrovamento, in qualche modo, poteva essere collegato a quello fatto negli anni 50 in Ucraina, mille miglia a ovest degli scavi moderni, dove in alcune tombe femminili erano state rinvenute delle spade e delle frecce delle armature. A questo punto l'archeologa Davis, autrice dell'articolo sopra citato, ha pensato di mettere questi dati in relazione alla leggenda delle Amazzoni. Ed eccoci, così, al racconto di Erodoto, che durante un viaggio a nord del Mar Nero, attorno al 450, sente parlare di donne guerriere che percorrono a cavallo le steppe della Russia del sud, Amazzoni, e gli le chiama, ma i vicini sciti invece le chiamano Oyorpata, quelle che uccidono gli uomini, donne feroci. Ma per quanto tali, le Amazzoni non potevano resistere ai greci. A Termodonte, sulla costa sud-ost del Mar Nero, esse vennero da questi sconfitte e caricate sulle navi, come prese da guerra. Se non che durante il viaggio, le Amazzoni si impadroniscono delle navi, che una tempesta fece naufragare sulla costa del Mar Dazov. E qui, in Domite, le guerriere combatterono gli sciti che abitavano la zona. Ma quando questi scoprirono che i loro versari erano delle donne, abbandonarono le armi. Con simili donne, assai meglio generare figli, presumibilmente invincibili. Cioè, gli sciti avevano più testa dei greci. Ci vuole poco dal punto di vista della percezione è pagana. I greci erano potenti per quanto riguarda la filosofia, ma erano abbastanza bassetti per quanto riguarda le relazioni sociali. Preferisco i romani, da questo punto di vista. Magari qualche pagano non è d'accordo con me. Sai, i punti di vista poi divergono, non è importante. Per cui, non solo le Amazzoni sono esistite, non solo le Amazzoni sono reali, ma le Amazzoni hanno avuto un peso notevole nella storia dell'antichità. Vi ricordate quando vi ho letto dei vari paganesi, in paganesimo urrita in pratica, e dei paganesi in babilonesi. E vi ho detto che a Babilonia la condizione della donna era molto migliore che non la condizione della donna assira, in quanto poteva anche disporre della proprietà. Bene, questo era dovuto al fatto che Babilonia fu sotto il dominio dei, credo che siano i mitanni, non vorrei sbagliarmi adesso. Qualcuno mi dice, no, ecco, signoranto. Comunque, una popolazione del nord della Russia, più o meno dai parti del Kazakistan, al nord, cioè, scusate, al sud della Russia, al nord dell'attuale Iraq, praticamente, i quali controllarono Babilonia per parecchi anni. E questa popolazione era una popolazione matriarcale. Per cui, chiaramente, con l'influsso del matriarcato in Babilonia, la condizione della donna, dal punto di vista sociale, era molto migliorata rispetto a quello che invece veniva a Suda. Gli assiri, per esempio, sono un esempio, dove il marito poteva anche ammazzare la donna, intanto era lo stesso. Va bene. Detto questo, passiamo invece a una bellissima vignetta, le vignette della Repubblica. Oggi c'è una peggio degli altri giorni, comunque bisogna che me la ritagli. La Repubblica del... non vignette, scusate, le fotografie della Repubblica storiche, praticamente. Beh, in questa fotografia c'è un Buddha che alza la mano tipo Hitler, tanto per fare un esempio, la mano destra in mano, l'altra mano discorre lungo il fianco, è in piedi e con uno dei due piedi, col piede alzato, è poggiato sopra il mondo. Cioè sembra schiacciare il mondo. Dice la didascalia, due bambini italianesi giocano con una statua del Buddha in un tempio di Cho Chuang Sao, a 30 km da Bangkok. La statua alta 10 metri è stata molto criticata per la posa aggressiva. Ed è la trasformazione che stanno avendo adesso le religioni monoteiste, Buddha e il buddismo in testa, per affiancarsi al cattolicesimo, affiancarsi ai musulmani, affiancarsi agli ebrei per distruggere il divenire umano. Cioè le religioni monoteiste, il buddismo si affianca a queste per arrivare a distruggere il divenire umano. Anche se alcuni principi buddhisti, alcuni principi della conoscenza buddista potrebbero essere utilizzati anche del paganesimo. Però sta di fatto che il buddismo sta prendendo un modo di essere, un modo di affrontare la vita, un modo di imporre i propri principi che ne distruggono il messaggio. Cioè praticamente quello che nel paganesimo si afferma non è il fine che giustifica i mezzi, ma sono i mezzi e il fine che hanno una relazione dialettica per cui l'uno e l'altro interagiscono. Se usi mezzi squallidi, il fine che tu raggiungi è un fine squallido. Cioè i mezzi potrebbero determinare il fine, in realtà fine e mezzi hanno una relazione dialettica fra di loro, cioè si condizionano a vicenda. Il mezzo che tu usi per raggiungere al fine, condiziona il fine che tu raggiungi e la trasformazione di te stesso nel raggiungimento di quel fine. Bene, il buddismo sta usando gli stessi mezzi che usano i cattolici e alla fine avrà lo stesso obiettivo, cioè distruggere il divenire umano. Naturalmente questa è una via facile, è facile distruggere gli esseri umani, è facile distruggere quanto questi hanno costruito. È più difficile invece affiancarsi e costruire la propria volta, affiancarsi e aiutare a distruggere. Cioè Dio distrugge la torre di Babele, perché? Perché deve distruggere il divenire degli esseri umani, deve mettere gli esseri umani in ginocchio, deve costringere gli esseri umani a non capirsi, a disperdersi. Dio non si affianca agli esseri umani, vi do una mano io a dare l'assalto al cielo della conoscenza, no? Deve distruggere, devi metterli in ginocchio. Detto questo andiamo un attimino più avanti. Un articoletto sul gazzettino del 137-1998. Vi ricordate una radioascoltatrice ci dice che la Chiesa Cattolica stava riabilitando Kerouac, io non conoscevo sto Kerouac ed ero scrittore di On the Road, cioè Libertà sulla strada, insomma, una specie di Beatles degli anni 60-70. Io facevo altre cose allora, non avevo tempo di occuparmi di Sto Kerouac. E niente, praticamente in questa biografia dice che Sto Kerouac, a parte l'omosessualità, che per me sono sempre comunque a fare i suoi, ero un razzista del KKK, del Kuchuklan, per cui io lascio ognuno dare il proprio giudizio, però uno che diventa razzista del Kuchuklan non aveva molto chiaro il concetto di libertà, secondo me. Dopodiché questa biografia, non so se sia vera o meno, comunque lascio a chiunque decidere. Anche perché Kerouac è stato fatto passare un po' come una specie di pagano, insomma, io davanti a sta roba mi pigliano un po' i brividi, veramente, mi pigliano un pochettino i brividi. Dopo la registrazione ufficiale in comune, severissimi interventi del Vescovo ed Osservatore Romano, la Chiesa contro il riconoscimento dell'unione fra due donne a Pisa. La Chiesa deve imparare a farsi cazzarci i propri, cioè non può imporre la sua morale da becera assassina agli esseri umani che vogliono vivere, che vogliono costruire il loro futuro. È bene che la Chiesa Cattolica si mette in testa che lei i campi di straminio non potrà più costruirli per quel che mi riguarda, che dopo qualcuno voglia aiutare la Chiesa Cattolica a costruire i campi di straminio come un altro discorso. Per cui se gli esseri umani vogliono costruire il loro futuro, vogliono costruire la loro vita, con le loro scelte, con le loro predilezioni, con la loro voglia, benvenga. L'unica cosa è la violenza della religione cattolica che non può essere ammessa. Per cui ha poco da starnazzare, sono solo starnazzamenti di persone che vogliono distruggere il divenire umano, che vogliono stuprare bambini in poche parole. Poi abbiamo un articoletto del Gazzettino del 13 luglio 1998, un vero e proprio manuale per fornire le parrocchie del satellite, di Telepiu e roba di questo genere. Telepiu è un canone mensile di 24 mila lire per le parrocchie, così avranno il loro nuovo cinema parrocchiale e avranno un nuovo addentellato per stuprare i ragazzini in parrocchia. Un altro nuovo mezzo per ottrare i ragazzini, vabbè. La vita è fatta di lotte e di rivendicazioni di libertà. Chi non è in grado di rivendicare la propria libertà arriverà a fare una brutta fine o anche a distruggersi. D'altronde ricordiamoci sempre che la costruzione dell'essere luminoso è una scelta soggettiva. Cioè la natura può tranquillamente abortire dieci, cento, mille, milioni di esseri che avrebbero potuto costruire se stessi. Fa parte del gioco della natura, non ha nessuna importanza. Quello che a noi dispiace è che più esseri vengono messi in ginocchio, a più individui si distrugge il divenire e più si distrugge il divenire di tutti gli altri individui che ci provano e si distrugge il divenire del sistema sociale in cui questo avviene. Cioè praticamente per ricostruire un divenire, un percorso di trasformazioni, è e sarà necessario grandi e grandi sacrifici. Conveciamo un po' quella roba un po' più datata, un po' più vecchiotta che è già stata lasciata indietro. Le teste due francesi e la loro arma segreta. Voi sapete che l'Egitto è un po' un caso anomalo rispetto al panorama arabo. L'Egitto culturalmente, anche dal punto di vista sociale, è un po' diverso dagli altri paesi. Ha poco a che fare con paesi tipo l'Iran, paesi dove l'integralismo è più pesante e più importante. E questa è ancora un'eredità che hanno avuto da Napoleone. Cioè da Napoleone che è stato in Egitto. Perché esigione Napoleone non è stato in Egitto soltanto con le armi e con i cannoni, ma come Alessandro Magno è stato in giro per il mondo, col suo esercito e anche con i filosofi, questo Napoleone è stato in Egitto con 167 studiosi, intellettuali, scienziati, artisti, i quali non si sono limitati a seguire l'esercito napoleonico, ma hanno costruito una vera e propria enciclopedia della storia dell'Egitto. Hanno scoperto la stella di Rosetta, sono andati a interpretare la scrittura egiziana, però hanno costruito anche un centro di cultura, un centro di cultura arabo, greco e francese. E guarda caso, sono arrivati in Egitto con una macchina da stampa di caratteri arabi che Napoleone ha giustamente, dal mio punto di vista, sequestrato al Vaticano. Cioè Napoleone ha detto al Vaticano, voi che cazzo ne fate una macchina da stampa che non vi serve assolutamente niente con i caratteri arabi? L'ha sequestrata e l'hanno usata in Egitto per stampare i libri, per diffondere la conoscenza, per diffondere la cultura. E l'Egitto era un po' diverso, e lo è tuttora, un po' diverso dagli altri paesi. Bene, questa eredità è un'eredità secondaria dell'invasione napoleonica dell'Egitto. Invadere un paese è sempre un atto delinquenziale, questo non ci piove assolutamente sopra, però ci sono persone che invadono un paese e lo distruggono semplicemente, sono delle persone che invadono il paese e lasciano qualcosa di loro, cioè lasciano un seme che germogliano dopo. Queste persone che lasciano un seme che germogliano dopo hanno sempre comunque diritto a più rispetto di chi distrugge punto e basta. E questo è un altro principio fondamentale. Ok, andiamo avanti ancora. Roma, smantellata la rete di nazi skin, dal Corriere della Sera del... Guarda, guarda, questo non l'abbiamo neanche scritto. Vabbè, insomma, questo nazi skin ha un bellissimo catalogo, un decalogo, scusate, un regolamento dove dice questo regolamento essere veramente vi è stato bestemmiare. Vabbè, la presenza delle riunioni del martedì e giovedì è necessaria. Il saluto a un camerata è tutto per noi. Non difidare mai di tuoi camerati. I nostri padri ci hanno tramandato molti valori da conservare. Venne uno che trascende dalla normalità, è il donarsi. La fede ci unisce nel tradizionalismo cattolico. Troviamo i cardini della nazione europea, Dio, Patria, Famiglia. Vabbè, fate un po' voi quello che volete. La base del nazismo è sempre il cristianesimo, è sempre il cattolicesimo, non ci sono cavoli. La base del nazismo è l'ideologia cattolica. L'ideologia cattolica e il nazismo sono esattamente la stessa cosa, al di là che la propaganda cerchi di dividerli. Andiamo ancora. Dal Corriere della Sierra del 26 maggio 1998. Muriamo gli zingari nei loro quartieri. Il ritorno dei ghetti spacca la Repubblica cieca. Bene, finalmente vedo Mario. Lascio finire qui la trasmissione. A risentirci alle ore 19. Trasmissione Magia, Stragonaria Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, è piazzale Parmesan 8 Marghera. Su elenco telefono vi trovate con Claudio Simeoni, Via delle Vignole 4 Marghera. Arrivederci, a risentirci alle ore 19. Grazie per l'ascolto e alle ore 19 sono ancora in radio con la trasmissione Magia, Stragonaria Paganesimo. Questa è Radio Gamma e a risentirci.